È un episodio abbastanza, anzi direi molto grave, che si è verificato la notte scorsa nel negozio dell'antico forno a Meleto Valdano. Allora, cosa è successo esattamente, a che ora? Spiegaci tutto. È successo a mezzanotte, a mezzanotte e un quarto hanno suonato il campanello, uno dei ragazzi che erano a fare il pane è andato ad aprire, ha trovato questi tre ragazzi incappucciati con le pistole. Pistole giocattoli o pistole normali? Lì sembravano pistole vere, voi sai se erano pistole vere o scacciacani, questi ragazzi insomma gli sembravano pistole vere, poi impauriti, li hanno acchiappati, li hanno legati, li hanno chiusi nel bagno e hanno rovistato cercando chissà cosa. Cosa hanno preso? Hanno preso un po' di fondocassa perché sono entrati dalla parte del laboratorio, poi sono andati fino al negozio, hanno buttato all'aria, sono andati negli uffici, hanno buttato all'aria, ma non hanno preso niente, è stato più lo sconforto, la paura. Poi cos'è successo? Quando sono usciti? Poi quando se ne sono andati, forse disturbati da un campanello di un forno che si è messo a suonare, perché come ha suonato il campanello di questo forno, mi raccontavano questi ragazzi e sono scappati. I ragazzi hanno buttato giù la porta del bagno, si sono slegati e hanno chiamato prima me, poi i carabinieri. Io sono arrivato in 3-4 minuti, ho visto tutto quello che era successo, dopo un po' sono arrivati i carabinieri e ora ci sono le indagini in corte. Le telecamere non ci sono? Sì, ci sono le telecamere, hanno rotto la telecamera d'ingresso, perché entrando c'è una telecamera sopra la porta, l'hanno buttata giù e poi all'interno ci sono altre telecamere però che sono state viste.